L'esteso fronte che sta interessando vaste parti dell'Europa centro-occidentale dell'Italia formerà una depressione nel fine settimana sul Tirreno, in spostamento poi verso l'Adriatico, interessando specialmente sabato, nuovamente la nostra regione con correnti fredde di boro al suolo, più umide da sud in quota. Prevediamo quindi per sabato inizialmente cielo coperto, precipitazioni sparse, più deboli e discontinue a ovest, più continue e moderato anche abbondanti a est. Quota neve piuttosto bassa, diciamo fino a fondo valle in montagna e probabilmente nevicherà sul Carso e anche sulle zone più alte di Trieste e potrebbe verificarsi anche qualche fase di neve anche verso il livello del mare su alcune zone della pianura, specialmente le ore centrali della giornata. Soffiera bora moderata in pianura forte sulla costa, inizialmente al mattino raffiche oltre i 100 km orari e poi in attemozione nel corso del pomeriggio. Rischio di ghiaccio al suolo, specialmente sulle zone interessate dalla neve. Temperature minime intorno di 0 gradi, tra 0 e più 2 gradi in pianura e sulla costa, massime dovrebbero attestarsi intorno ai 5 gradi. La giornata di domenica trascorrerà con un cielo essenzialmente variabile, non ci saranno precipitazioni previste, il vento sarà in attenuazione, ma farà piuttosto freddo al mattino con temperature sotto 0 in pianura e più umide invece sulla costa con temperature sopra 0, tranne che l'eventuale presenza di neve sul Carso potrà determinare minime anche qui inferiori agli 0 gradi. 0 termico intorno ai 700 metri, quindi temperature negative su tutta la zona montana praticamente. Le massime poi rimarrando stazionare in neve aumento verso i 6-7 gradi. Variabile con temperature stazionarie anche lunedì e martedì senza fenomeni significativi. E dall'Osservatorio dell'Arpa, Arturo Pucillo vi saluta.